Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione promuove il tutorato formativo, un programma di attività di orientamento e tutorato per gli studenti universitari in particolar modo al primo anno di corso. Si tratta di incontri informativi con i servizi dell'Università di Padova e incontri formativi coordinati in piccolo gruppo da tutor docenti e tutor studenti su alcune competenze trasversali utili per definire il proprio percorso personale, accademico e professionale. Consiglierei il tutorato formativo a chiunque abbia paura dell'Università e di ciò che c'è da affrontare, a chiunque abbia paura che il proprio metodo di studio non sia quello giusto o che non ne sappia abbastanza di questa Università. Soprattutto ringrazio il tutorato formativo per i colleghi che mi ha fatto conoscere, che a fine anno più che colleghi sono diventati amici ed è una cosa molto importante per chi come me viene da lontano e si ritrova in un contesto completamente nuovo e all'inizio un po' da soli. Principalmente il tutorato formativo per me ha aiutato a migliorare il modo con cui comunicare le mie idee ad altre persone. Mi sono resa conto che tutti avevamo un obiettivo comune ovvero quello di migliorare l'esperienza universitaria. Ho deciso di partecipare all'esperienza del tutorato formativo perché pensavo che questo potesse aiutarmi a lavorare in team, visto che durante la triennale non ho avuto molta occasione e questo mi ha aiutato a migliorare le soft skills. Un'opportunità di crescita e di maturazione per gli studenti che si iscrivono all'università in modo tale che questa transizione a volte difficile possa essere aiutata e sostenuta da studenti e docenti che hanno più esperienza e che possono guidarli con preziosi consigli e supporto. Mi ha permesso di capire che gli altri studenti possono avere le mie stesse problematiche inizialmente e questo mi ha permesso di parlare con loro con più facilità e di rompere il ghiaccio. Mi ha servito personalmente per migliorare la mia capacità di relazionarmi, di lavorare in gruppo. Grazie al tutorato formativo sono riuscito ad inserirmi molto velocemente nella vita universitaria assieme a tutti i miei altri compagni di corso perché siamo venuti a conoscenza molto velocemente di tutti gli orari delle aule studio, delle biblioteche, delle videoteche in maniera tale da poter sfruttare tutti quelli che sono i servizi che ci offre l'università. Nel primo periodo sono state messe in luce cose fondamentali soprattutto riguardanti le tasse, le varie detrazioni, che ci potevano essere cose che dal passaggio dalle superiori all'università non è facile capire. Mi è servito per migliorare anche il mio metodo di studio e a superare al meglio alcuni esami, magari quello di analisi che all'inizio del primo anno è un po' quello che incontrano più difficoltà. È un'esperienza molto utile per poter conoscere in maniera approfondita il proprio corso di studi e eventuali bocchi lavorativi post lauream. Per il tutor studente questa è un'esperienza molto formativa perché per la prima volta il tutor si trova in una situazione in cui deve gestire lui un gruppo di ragazzi più giovani e anche un gesto di grande generosità perché mette a disposizione il tutor studente e la sua esperienza passata per aiutare i ragazzi più giovani in difficoltà. Facendo il tutor studente ho avuto la possibilità di mettermi a disposizione degli altri, delle matricole per aiutarli a gestire meglio il tempo e a gestire le sconfitte dopo un esame. Essere un tutor studente offre la possibilità di poter aiutare i ragazzi che come noi quando eravamo matricole hanno sicuramente avuto bisogno di inserirsi in questo contesto del mondo universitario. Per me l'esperienza con i tutor studenti è stata molto importante perché mi ha fatto capire come superare i primi esami. Mi sono sentito in grado di poterli aiutare, di dare il mio contributo per facilitare il loro percorso. Consiglio a tutte le matricole di partecipare al tutorato formativo perché ti permette di avvicinarti anche in maniera più informale ai professori. Ci sono molte differenze tra la scuola superiore e l'università. Ci sono nuovi servizi, bisogna migliorare il proprio metodo di studio per adattarlo alle nuove necessità, ad esempio alla maggior flessibilità offerta dai corsi di studio. Il tutorato formativo aiuta in questa direzione e con un piccolo impegno di tempo settimanale, più o meno un'ora a settimana, lo studente viene accompagnato, viene aiutato in questa scoperta. Il tutorato formativo è sicuramente l'occasione migliore per gli studenti, per cominciare a interagire con i docenti, per non vederci come persone lontane, ma invece persone a cui si possono chiedere le informazioni per migliorare il metodo di studio e anche per affrontare le sfide di un primo esame. L'ingegneria dell'informazione affronta le sfide più difficili della società di oggi, che è la società digitale. Il tutorato formativo è uno strumento molto utile e molto importante per gli studenti per affinare le loro capacità e competenze, per comprendere e risolvere questi problemi complessi. Grazie per la visione!